Siamo particolarmente preoccupati per l'escalation che il conflitto in Medio Oriente sta assumendo. Lo ha detto il nostro Ministro degli Esteri Antonio Tajani qualche giorno addietro a Napoli prevedendo e preconizzando anche questo aggravamento del conflitto, questa escalation. Noi riteniamo che bisogna attivare immediatamente e concentrarsi sugli interventi diplomatici. Bisogna far sì che da Libano ci sia un momento di battuta di arresto per ritrovare una sintesi e per arrivare finalmente a un cessato il fuoco per giungere a una pace internazionale in questo contesto e in questo segmento del nostro globo.